ciao vale scusa se ti faccio il video dalla macchina ma come sai sto facendo avanti indietro per aiutare al meglio i miei compaesani non ho situazioni più comode per gli altri sono daniele sesta vengo da norcia da castelluccio di norcia e faccio parte dei ragazzi colpiti dall'ultimo sisma insieme ad alessandro siccome ho notato delle difficoltà della protezione civile a reperire prodotti nuovi abbigliamento nuovo abbiamo deciso di creare una felpa che è quella che indosso orgogliosamente adesso con scritto resta in piedi da donare alla popolazione lì per comprarla bisogna inserire come destinatario o come ricevente il mio nominativo e l'indirizzo del mio prosciuttificio a norcia del prosciuttificio di famiglia trovate tutto nelle specifiche della campagna e soprattutto lo metterò nel primo commento a questa lo metterà penso alessandro nel commento a questo video queste poche parole servono per per chiedervi un aiuto nelle condivisioni e nella diffusione del messaggio e so che ce la possiamo fare un abbraccio a tutti grazie 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 grazie